Scade il prossimo 22 giugno il termine per aderire all'avviso pubblico del Comune di Mola ed essere inseriti nell'elenco dei soggetti privati, associazioni e operatori del terzo settore disponibili ad offrire i propri alloggi da destinare al settore, servizi sociali per esigenze abitative e anche emergenziali alla luce di un'urgenza non più latente. Due le categorie di immobili richiesti, gli appartamenti privati da allocare con contratti transitori o a canone concordato e gli immobili da destinare a progetti di housing sociale. In cambio l'amministrazione comunale si impegna a rilasciare ai proprietari degli immobili un'apposita dichiarazione circa il corretto andamento del progetto individualizzato, un fondo di garanzia in relazione ad eventuali morosità e un contributo economico, una tantum in forma di agevolazione sulle imposte comunali e nazionali. Con questa misura, ha commentato il sindaco di Mola Giuseppe Colonna, si sostengono le fasce meno abbienti con un'azione concreta e si offre ai proprietari opportunità di locazione garantite e sicure.